Intanto invitiamo al pubblico a rimanere dettivamente oltre le trancene e attendiamo sfuntare dall'ultima curva che è in questo lunghissimo recilinio. Partito lo spritz, partito lo spritz, noi gasteremo spazio bianco alle giudizie d'arrivo. Allora, attenzione, vediamo il gruppo per questa volata assollata. È un gruppetto che è stasciato proprio nelle ultime fasi. www.pianetaciclismo.it Il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it Il ciclismo, come non l'avete mai visto. www.pianetaciclismo.it